Passare dal Piemonte alla Lombardia, la provincia di Verbania, Cusio, Ossola, è al voto per cambiare regione. Ci sono motivi culturali ed economici, ma l'affluenza è bassa. Seguiamo Laura Cason. Devo decidere, perché sono lì, lì, per lì. Volete che la provincia del Verbania, Cusio, Ossola sia separata dalla regione Piemonte per entrare a far parte della Lombardia? Questo è il quesito su cui oggi sono stati chiamati ad esprimersi gli abitanti dei 76 comuni della sponda piemontese del Lago Maggiore. In un referendum consultivo voluto dal comitato promotore, diamoci un taglio, oltre 143.000 elettori. Lombardia tutta la vita, per tante agevolazioni. Sono nata piemontese, vorrei morire piemontese. Un confronto su storia, emozioni, cultura e questioni economiche. Questo lembo di terra fu ducato lombardo fino al 1743. Che Milano sia più vicina rispetto a Torino è in dubbio. Che all'università si vada in Lombardia pure. Così come l'ha parlata, più lombarda che piemontese. Vogliamo andare in Lombardia? C'è qualcosa in più? Sì, beh, dopo qui è 50 anni che sta vivendo qui, però, eh. Ma la partita si gioca anche su aspetti economici, in particolare su quei 18 milioni di euro, versati come canoni idrici dalle centrali elettriche dei territori montani, che in Lombardia Sondrio tiene per sé e che invece qui non si vedono perché rimangono alla regione. Mia figlia mi ha detto che se si va in Lombardia staremmo meglio. Ma io sto bene in Piemonte. Ma stando alla percentuale dei votanti, la voglia di tornare al passato potrebbe non avere entusiasmato così tanto da dire addio al Piemonte.